Ciao a tutti ragazzi e ragazze per un nuovo video oggi sono qui con la mia bacchettina di Harry Potter per farvi un video tag appunto riguardante Harry Potter sono 30 domande quindi dovrei iniziare subito e stringere il più velocemente possibile quando e come hai conosciuto Harry Potter? allora io ho visto il primo film a 6 anni quindi l'ho conosciuto perchè è scelto il film tutti volevamo andarlo a vedere però personalmente a me ha fatto paura il primo film soprattutto con la scena dei del cane a tre teste ecco l'agro che sono saltata dalla sedia me lo ricordo ancora e sono un po' traumatico come inizio però l'ho conosciuto grazie al primo film in che ordine hai letto i libri? li ho letti dal primo al settimo ma senza interruzioni perchè li ho letti a 14 anni quindi uno dietro l'alt perchè c'erano già tutti qual è il tuo libro preferito? qual è quello che non ti è piaciuto? allora il mio libro preferito forse è il primo quando c'è la descrizione della della mensa e così via quello che non mi è piaciuto è il quarto perchè non so non c'era niente cioè è bello il calice di fuoco eccetera però come libro non mi ha particolarmente entusiasmato qual è il tuo personaggio maschio preferito? allora sicuramente Python perchè dal primo all'ultimo libro ha saputo dare quelle emozioni proprio giuste cioè nel primo magari lo si odiava e poi piano piano l'ho iniziato da mari cioè quindi è un personaggio completo qual è il tuo personaggio femminile preferito? sicuramente Hermione perchè mi ci rivedo mi ci rivedo tantissimo da piccola sempre quella studiosa puntigliosa sempre quella mano alzata ecco ero io all'elementare alle medie adesso un po' di meno purtroppo però vabbè dai al tuo libro preferito modo da 1 a 10 cioè essendo il primo sicuramente 10 perchè comunque mi ha entusiasmato mi ha fatto appassionare se non avessi letto il primo e non mi fosse piaciuto non avrei continuato non mi sarei andata a guardare anche gli altri libri e quindi dalla inizia tutto e quindi gli do un bel 10 la migliore trasposizione cinematografica la peggiore? allora la migliore la migliore a parte che vabbè il libro con il film è centralmente poco però forse la migliore è stata davvero sì la prima abbastanza realistica quella peggiore è stato il quinto libro perchè è uno dei più lunghi e il film è il più corto e secondo me non è arrivato benissimo il messaggio non mi è piaciuto come è stato fatto cinematograficamente parlando qual è l'ambientazione migliore e la peggiore? la migliore beh il campo da quidditch il castello veramente sono beh fenomenale io vorrei dirci la peggiore ma perchè io sono sono una persona paurosa quindi la foresta proibita quella mi fa veramente paura non è che è la peggiore però a me fa paura quindi la metto in questo piano qual è il tuo Weasley preferito? è quello che non puoi neanche sentire nominare? allora il Weasley preferito sicuramente i gemelli ma anche Ron è abbastanza quello che non mi piace è il più grande che non mi ricordo neanche il nome però è abbastanza inutile perchè non fa nulla perchè non fa nulla né nei libri né nei film a parte nel quarto vabbè però non mi è piaciuto cioè non ha senso secondo me qual è la tua creatura fantastica preferita? l'ippogrifo a me fa tanta tenerezza mi piace troppo quella creatura è veramente carinissima il libro è fatto anche meglio di come è nel film quindi veramente mi è piaciuta tantissimo qual è il tuo Mangiamorti preferito? sicuramente Bellatrix è veramente un bel personaggio poi vabbè io lo guardo anche dal punto di vista del film Elena è beh è lei cioè io amo come attrice lei quindi mi piace anche come interpreto il personaggio è veramente precisa in quel ruolo se fosse a Dog Wars quale sarebbe il tuo passatempo preferito? ah sicuramente proverei tantissimo il Quidditch proprio perchè volano eh io ho sempre desiderato poter volare gli scacchi io ci so giocare ma non mi piacciono così tanto quindi no non penso quelli e poi mi leggere tutti i giornali con le figure rialzate qual è tra i big set il tuo preferito? io credo che i big set fossero i personaggi principali quindi penso di sì e tra di loro beh sicuramente Ermione sì Ermione qual è il tuo professore di Hogwarts preferito? allora professore a parte Python mi piace tantissimo Silente che si può considerare un professore il preside quindi penso di sì qual è il tuo incantesimo magico preferito? a me piacerebbe tantissimo usare Accio perchè sono una persona disordinata quindi per ritrovare le cose sarebbe molto facile utilizzare Accio tipo Accio telefono e mi arriva il telefono in mano sarebbe fantastico hai qualche libro di Harry Potter non scritto dalla Rowling se sì quale? no 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 ah quelli speciali tipo no non ce li ho no hai mai partecipato ad un raduno? dove? no mai hai qualche gadget? quale? sì vabbè ho la bacchetta come avete visto ne ho due poi ho gli scacchi magici la scacchiera una penna volante la la giratempo e basta è un po' di spillette sì è una penna magica è un tacquino block notice si penso ah no ho anche la collanina con i doni della morte e il diario di Lars Voldemort hai qualche gadget? quale? sì vabbè ho la bacchetta come avete visto ne ho due poi ho gli scacchi magici la scacchiera una penna volante la la giratempo e basta credo è un po' di spillette sì è una penna magica è un tacquino block notice si penso ah no ho anche la bella collanina con i doni della morte e il diario di Lars Voldemort quale è la tua citazione preferita? io non ne ho di preferita però quella che mi piace di più è quando Hermione descrive la pozione dà il filtro d'amore quello che sente l'odore di che sente che non è una propria citazione però mi piace la scena com'è scritta quindi quello chi avresti voluto che non morisse? chi invece avresti lasciato morire? allora io non avrei voluto che morisse Fred perché non mi piace il modo in cui muore è proprio mi dispiace troppo invece avrei lasciato che morisse beh gli scagnossi di Malfoy quando non mi ricordo chi dei due cade nel fuoco ecco la sì cioè chi se ne frega dai mori vai non fa niente ti aspettavi un finale diverso? se sì come? no in realtà no perché è giusto che sia stato così un finale tranquillo con i figli che vanno a dog wars normale sì magari avrei fatto vedere non so il matrimonio quando nascono i bambini cose del genere però va bene anche come finale quello che in realtà c'è qual è la tua materia preferita e quella che non studieresti? allora sicuramente quella preferita è quella di di incantesimi in generale invece quella che non farei molto volentieri forse le pozioni perché non mi interessano di tanto cosa ce li diresti tra un gufo un gatto e un rospo? sicuramente il gufo meglio le civette degli altri due animali ho paura quindi no in che casa vorresti andare e in che casa ti rifideresti di andare? allora sicuramente mi piacerebbe andare in grifondoro perché anche su Pottermore sono in grifondoro in realtà non mi piacerebbe andare in tasso rosso perché non so non mi piaccio no sono è quella casa un po' così quella che non mi fa né cazzo né freddo quindi non mi piacerebbe sei iscritta a Pottermore ti piace il sito? sì mi piace e ci sono iscritta anche se non ci gioco da un po' in realtà sì mi sono fermata tipo al secondo libro cosa tensi di quelli che dicono Harry Potter è solo un libro che non hanno mai letto e che non hanno mai apprezzato davvero così tanto i film però c'è anche gente a cui non piace il fantasy e quindi è giusto che esprimano la loro opinione io di mio sostengo che sia un mondo Harry Potter perché oltre ad aver creato un libro così particoleggiato così minuzioso il film sono anche abbastanza carini rispetto al libro poi tutto ciò che c'è dietro è un mondo davvero nulla di meno hai letto hai letto anche gli altri libri di Harry Potter ho letto le fiabbe di Bader Bardo e basta credo sì qual è il tuo dono della morte preferito sicuramente il mantello il mantello perché ci si può nascondere è veramente è figo cioè lo userei in più situazioni rispetto agli altri tu qual è la tua coppia della saga preferita e quella che non approvi allora mi piacciono tantissimo Harry e Ginny però non approvo Hermione e Ron perché io Hermione la voglio con Marfoy mi leggevo tutte fanfiction in cui c'erano Hermione e Drago mi piacevano troppo come coppia quindi per me rimane quella quindi no Ron abbasso Ron se potessi parlare con Sia Gio cosa le diresti? chiederei se facesse un continuo magari sui figli qualcosa del genere o comunque la ringrazierai per questi libri per i film eccetera eccetera però sì in generale è questo bene ragazzi questo video è finito spero vi sia piaciuto fatelo vi lascio qua sotto le domande io vi mando un bellissimo bacione e ci vediamo al prossimo video ciao